E questo che sta dietro di me è proprio un gruppo così come si trovano nell'ambiente naturale, una sorta di famiglia allargata in cui ci sono i genitori ma ci sono anche zie, fratelli, cugini e quindi una grande famiglia di lemuri sono arrivati questi due cuccioli che sono due gemelli deliziosi che naturalmente sono aggrappati al genitore, ci sono state due scimmiette deliziose che sono il tamarino edipo, il tamarino edipo è una scimmia del Sud America e una delle specie più rare e più minacciate.